Ci ha stupito in Chiamatemi Joe, in My Camp Rock 2. E partecipando a Ballando con le stelle, Sara Santostasi ha dimostrato di essere una grande ballerina. E ora va a tutto ritmo per insegnarvi lo stile di Sisi e Rocky. A tutto ritmo Dance Time. Ciao, sono Sara Santostasi, con Rianne e Delia impariamo il Kigirat. Vi facciamo vedere una volta tutto insieme come viene e poi lo studiamo su due parti divisi. Siete pronti? Sette, otto, un, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto. Ok, perfetto, adesso lo dividiamo su due, quattro. Vediamo prima bene cosa fanno le gambe. E uno, due, quindi la gamba a destra incrocia in avanti e poi richiude. Tre, quattro, la stessa cosa dall'altra parte. Vi facciamo di nuovo. Uno, due, tre, quattro. Ok, adesso le braccia, mentre la gamba apre, aprono anche le braccia. Quando chiude sono incrociate davanti. Facciamo insieme. Sette, otto, uno, due, tre, quattro. Bene, andiamo avanti. Adesso diamo un calcio verso destra che viene chiamato kick. Calcio chiudo, dall'altra parte calcio chiudo. Bene, mentre le braccia invece fanno un giro verso destra e poi un giro verso sinistra. Perfetto, uniamo. Sempre questa parte. Cinque, sei, sette, otto. Perfetto, adesso uniamo tutto quanto insieme e lo facciamo piano piano. Sette, otte, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ok, possiamo velocizzare un po', lo facciamo a una velocità media. Sette, otte, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora un po' più veloce. Sette, otte, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Bravi, abbiamo aggiunto un altro passo. Seguite la programmazione per imparare altri passi. E mi raccomando, allenatevi, perché a settembre toccherà a voi andare a tutto ritmo come Sissi e Rocky con a tutto ritmo Dance Time, da settembre sulla Disney Channel.